Una Ford Edge tutta nuova negli interni sotto al cofano e nelle tecnologie. A Milano DS ha presentato la nuova DS3 Crossback, in casa BMW arriva invece la nuova Serie 7. Ford Edge si rifà il look, si presenta sul mercato in una nuova versione con più tecnologie e molte novità, diventando di fatto la vettura full size più avanzata dell'ovale blu. Cambia esteticamente dove prende posto la nuova griglia, i gruppi ottici a bordo irrompe in maniera dirompente la tecnologia, a cominciare dall'intelligent all-wheel drive, il software che rielabora le letture effettuate da decine di sensori in 10 millisecondi. stabilisce se passare automaticamente dalla trazione integrale a quella a due ruote motrici. Telecamere e sensori arricchiscono l'innovativo Copilot 360 adottato di numerosi sistemi, come l'Adaptive Cruise Control con Stop & Go e il Lane Centering Assist per mantenere il SUV al centro della carreggiata e alla giusta distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono. Sono solo alcune delle tecnologie che gli ingegneri americani hanno deciso di adottare, alle quali poi si aggiungono quelle presenti all'interno dell'abitacolo, come il modem integrato con wifi, con possibilità di connessione fino a 10 dispositivi. Sotto al cofano, oltre al 2000 EcoBlue 190 CV, con cambio manuale a 6 rapporti, c'è il nuovo motore diesel Ford EcoBlue, sempre 2000 da 238 CV di potenza con sistema biturbo. Ha scelto l'iconica cornice dell'arco della pace di Milano DS per il lancio della nuova DS 3 Cross Beck, il moderno SUV, che è in arrivo nelle concessionarie italiane a fine primavera. Urbane con lo spirito da viaggiatrice, la nuova DS propone 5 motorizzazioni termiche, 3 benzine e 2 diesel, prestazioni di alto livello ed efficienza dal punto di vista dei consumi e delle emissioni. Prevede 3 allestimenti, 2 per i cosiddetti privati e 1 dedicato invece ai clienti, che utilizzano molto l'automobile anche per ragioni lavorative e necessitano di conseguenza di equipaggiamenti in grado di unire stile e funzionalità. Per la fine dell'anno è poi prevista una versione 100% elettrica e un'edizione esclusiva. L'elettrica si chiamerà DS 3 Cross Beck E-Tense, avrà un'autonomia superiore ai 300 km, con la possibilità di ricaricare l'80% della batteria in soli 30 minuti. Prezzi che partono dai 26.200 euro. Con il lancio della nuova Serie 7 BMW va a ridefinire gli standard della vettura Ammiraglia. Nuova negli interni, nelle tecnologie sotto al cofano, a prima vista è difficile non farsi rapire dalla nuova griglia frontale più grande che arriva a coprire circa il 40% in più di superficie e che si combina con i proiettori più sottili rispetto alla precedente generazione. All'interno di spazio ce n'è in abbondanza, i materiali sono di prima scelta e tutto va a ricreare un ambiente lussuoso e raffinato sotto ogni aspetto. Sotto al cofano si può scegliere tra motori diesel o benzina con 6, 8 o 12 cilindri in aggiunta al nuovo sistema plug-in. Top di gamma il V12 da 6,6 litri in grado di sprigionare la bellezza di 585 cavalli. Le varianti ibride plug-in impiegano un motore a benzina 6 cilindri appositamente adattato e una batteria ad alto voltaggio. Il risultato è una potenza combinata di 394 cavalli con il driver experience control impostato sulla modalità sport. Tutte le varianti della nuova BMW Serie 7 sono dotate come standard di sospensioni adattive inclusi gli ammortizzatori a controllo elettronico e sospensioni pneumatiche a due assi con autolivellamento automatico. Tra le opzioni che i clienti possono scegliere compaiono il sistema integrale Active Steering e il sistema Chassis Exuitive Drive Pro disponibile per tutti i modelli ad eccezione delle varianti ibride plug-in.